Vi è permesso il favore che voglio cercare, che non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, e forzo le salute tra i miei locali, i punti di efficienza e per i miei giorni. Gli indagati sono 191. Una prima stima, fisso il valore complessivo dei beni sequestranti, oltre la sticella di 117 miliardi di euro. Le principali imputazioni sono 416 bis, c'è un'ipotesi di 416 temi, detenzione e porto pubblicità. Grazie per la visione!